Oltre 9 rifiuti di ogni genere per ogni metro lineare di arenile. I rifiuti continuano ad essere ospiti indesiderati dei nostri litorali. Nelle 14 spiagge monitorate in campagna sono stati censiti 13.256 rifiuti in un'area totale di 39.700 metri quadrati, una media di 947 rifiuti ogni 100 metri lineari di spiaggia, che supera di gran lunga il valore soia o il target di riferimento stabilito a livello europeo per considerare una spiaggia in buono stato ambientale, ossia meno di 20 rifiuti spiaggiati ogni 100 metri lineari di costa. A parlare chiaro sono anche i nuovi dati dell'indagine Beach Liter 2021 realizzata dai circoli locali di Lega Ambiente e che l'Associazione Ambientalista lancia in vista del weekend 14, 15 e 16 maggio di spiagge fondali puliti. Oltre alla rimozione dei rifiuti, l'obiettivo di spiagge fondali puliti è anche quello di sensibilizzare i cittadini sul grande problema del marine litter che non risparmia il Mediterraneo. Nel Salernitano sono state sei le spiagge monitorate, la spiaggia presso la foce del fiume Tusciano a Battipaia, l'area protetta Lega Ambiente eboli, la spiaggia libera Ponte Cagnano-Faiano e la spiaggia dei Pioppi a Pollica, la spiaggia dell'oasi dunale Pestum a Capaccio Pestum e la spiaggia Mercatello a Salerno, dove sono stati ritrovati 5.475 rifiuti in 23.000 metri quadrati, con una media di 913 ogni 100 metri lineari di spiaggia. La spiaggia di Pestum è quella con il più alto numero di rifiuti, 1.381, di cui il 32% sono riconducibili alla cattiva depurazione delle acque, come i cotton fioc, ben 429. Segue la spiaggia libera di Ponte Cagnano, con 964 rifiuti, in gran parte legati al materiale da imballaggio, come tappi e anelli di bottiglie o buste, piccoli sacchetti. La spiaggia di Mercatello a Salerno è la spiaggia dove il 100% dei rifiuti ritrovati, 78, sono tutti costituiti di polimeri di plastica, mentre tra le prime in campagna per il ritrovamento di mozziconi di sigarette, 526. I rifiuti censiti da Lega Ambiente sulle spiagge campane sono di ogni forma e tipo, per lo più usa e getta, legati principalmente agli imballaggi, al consumo di cibo e ai rifiuti da fumo, dalle bottiglie ai contenitori e tappi di plastica, dai muzziconi di sigaretta, ai calcinacci e ai frammenti di vetro, per arrivare a dischetti, guanti e mascherine. La plastica resta il materiale più trovato dai rifiuti spiaggiati. Su circa la metà delle spiagge campionate, la percentuale di plastica è guaglia e supera il 90% del totale dei rifiuti monitorati, mentre sul 71% dei lidi monitorati sono stati rinvenuti guanti, use e getta, mascherine o altri oggetti riconducibili all'emergenza sanitaria Covid-19, rinvenuti anche quest'anno, dischetti utilizzati come biofilm carrier nei depuratori.